La doppia cifra già ci sta emozionando e già abbiamo delle idee, ma quest'anno abbiamo fatto un grandissimo salto di qualità. Avremo gruppi internazionali per tutte e tre le salate, tra cui un gruppo che ha suonato anche nei più prestigiosi festival mondiali, tra cui il Clastesbury, o è stato anche rappresentante dell'Irlanda per l'Eurovision. Inoltre avremo una grande arena degli spettacoli, dove ci saranno spettacoli di fuoco, spettacoli aerei, combattimenti e tutta una parte di rievocazione, di artigianato e anche i visitatori potranno provare oltre le solite danze, quindi provare i soliti passi di danza irlandesi e ballare insieme, ma potranno anche suonare strumenti celtici e l'arpa celtica. Inoltre ci saranno anche dei workshop musicali, verrà spiegato come funziona una session irlandese, quali sono tutti quanti i ritmi e ovviamente poi ci saranno musica su cinque palchi, tra gruppi che la metà dei gruppi vengono tutti dall'Irlanda e sono gruppi che suonano ogni giorno nei pub irlandesi. Abbiamo messo un biglietto d'ingresso per avere un maggior controllo dell'afflusso, poi sicuramente il paese è molto grande, le persone riusciranno a disperdersi molto facilmente. Ci aspettiamo molti visitatori, abbiamo iniziato la prevendita da meno di un mese, ma abbiamo prenotazioni da Bolzano fino alla Puglia, quindi arrivano da ovunque, abbiamo un campo tende, già abbiamo un 400 prenotati e stanno arrivando richieste ogni minuto. Il notaresco è abituato a tingersi di verde tutti gli anni e il sol pensiero di non tingersi più soffre, quindi non riusciamo proprio ad abbandonare il gemellaggio con l'Irlanda e tutto questo è grazie ai ragazzi dell'associazione Innocente Smith che ci permettono puntualmente nei giorni di settembre questo grande evento. Per il notaresco è molto importante sia per la cultura ma soprattutto per le attività che abbiamo sul territorio, diciamo che loro beneficiano alla grande di questo evento. Grazie a tutti.